Christmas in Gospel I ragazzi al coro e agli strumenti, Katia Acafaro, Giulia Rucci, Silvia Natilla, Alessandra Saracino, Marco Saracino, Francesco Ricci, Giuseppe Di Terlizzi, Federica Collanninno, Alicia Bitritto, Francesca Di Coste e Luigi Bianco hanno deliziato i tanti accorsi. Poi quest'anno la novità è che è tutto live e sono tutti i ragazzi che hanno studiato nell'associazione Vox Libera, che hanno studiato canto, hanno studiato musica e la cosa bella è vederli crescere e il risultato lo vedrete stasera.